Maometto nasce tra il 569 e il 571 alla Mecca, una delle città più fiorenti dell'Arabia, governata dalla tribù dei Quraish. La sua è una famiglia benestante, ma Maometto rimane ben presto orfano. Grazie a un matrimonio fortunato, però, può dedicarsi agli studi religiosi e nel 610 fa un incontro che gli cambia la vita. Mentre riposa in una grotta, riceve la visita dell'arcangelo Gabriele, che lo chiama Apostolo di Allah.